Anzitutto, buonasera a tutti e tutte, ringrazio veramente Giorgia e tutti gli altri interventi che mi hanno preceduta. Io vorrei cominciare in realtà con una precisazione, con una considerazione che ritengo sia fondamentale un po' per inquadrare appunto quello che mi poneva Giorgia come domanda, ovvero sia il fatto che in realtà il reddito climatico non è, non si configura come una campagna effettivamente in corso, ma è piuttosto da considerarsi come un orizzonte a cui effettivamente si tende, è uno strumento, lo potremmo definire probabilmente l'unico strumento che potrebbe rendere effettivamente sostenibile la transizione energetica, sottraendo di fatto gli individui, i lavoratori, i lavoratrici, ma non solamente a quel ricatto fin troppo noto tra lavoro e salute. Ecco, in questo contesto, in questo webinar si è parlato di un reddito di quarantena come un primo momento verso un reddito universale e si è parlato anche di reddito di autodeterminazione che appunto ancora se ne parlerà con l'attivista di Non una di meno che mi seguirà, però penso che sia utile precisare come di fatto l'istanza che è sottesa, potremmo definirla in un senso un po' più ampio come la giustizia sociale, non sia di fatto un piano distinto, diverso da differenziare per quanto riguarda le premesse che invece reggono un orizzonte come quello per un reddito climatico più in generale. Ritengo che si possa tranquillamente ammettere come giustizia sociale e giustizia climatica siano questioni che si intrecciano immediatamente tanto su un piano più oggettivo quanto su un piano però anche estremamente soggettivo e di movimento. Su un piano oggettivo la considerazione da fare in realtà è abbastanza semplice, ritengo il capitalismo ovviamente da leggersi come un regime ecologico si fonda e alimenta le disparità di classe svelando immediatamente l'intreccio come dicevo prima tra il piano sociale e quello climatico ma allo stesso modo da un punto di vista soggettivo potrei citare veramente moltissimi esempi di intrecci di convergenze tra questi due diversi piani. Posso pensare molto più banalmente alle lotte indigene presenti in America Latina ma penso anche alle battaglie dell'Ilva di Taranto, penso anche in parte un po' alla genesi, alla costruzione del discorso da parte dei gile gialli. Ora ovviamente il mio intervento in questa sede è veramente limitato dal punto di vista temporale quindi anch'io più che argomentare pongo alcuni spunti di riflessione, vorrei aggiungerne un altro che credo sia abbastanza interessante quando si parla appunto di reddito climatico. Tanto la pandemia quanto la quarantena hanno ovviamente generato un forte dibattito istituzionale europeo sulle misure economiche finanziarie da mettere in campo e da adottare. Ursula von der Leyen ad esempio si è più volte fatta portavoce della necessità di un Green New Deal, di un piano quindi di investimenti verso una cosiddetta, una sedicente di conversione ecologica. Quando noi parliamo però di un piano di questo tipo ci troviamo di fronte di fatto a un piano che punta, che mira al finanziamento delle imprese che non si pone invece l'obiettivo né di finanziare dal basso, tra virgolette, quindi di alimentare, di sostenere in qualche modo l'economia reale né tantomeno ovviamente di cambiare, di rivoluzionare radicalmente l'assetto attuale. Si tratta fondamentalmente di un tentativo di riconfigurare il capitalismo semplicemente in chiave verde, in chiave green e naturalmente si tratta di una riconfigurazione che non mettendo in discussione tutte quelle premesse stesse del sistema economico, finanziario, produttivo e naturalmente ecologico, continuerà naturalmente a fondarsi, ad alimentare le differenze di classe, l'ingiustizia sociale, costringendo ancora una volta una scelta un po' forzata, come dicevo all'inizio, tra lavoro e salute. Quindi appunto di fatto ritorniamo ad alimentare, a perpetrare lo stesso identico cerchio. In quest'ottica naturalmente dal mio punto di vista, che è un punto di vista sicuramente attivista, militante, credo che l'unica chiave effettivamente da un certo punto di vista risolutivo o comunque produttiva, diciamo, possa essere l'organizzazione. Ora, la lettura dell'ingiustizia sociale, dell'ingiustizia climatica come emanazioni di un unico regime ecologico, vale a dire ovviamente quello capitalista, congiunge i terreni di battaglia e ne amplia ovviamente l'orizzonte. Io nella mia esperienza questo allargamento non posso naturalmente dire che sia l'unica volta, ma sicuramente l'ho percepito non molti mesi fa qui a Venezia, abbiamo organizzato insieme ad attivisti veramente venuti da tutta Europa un climate camp, il Venice Climate Camp e lì effettivamente si è dato un primo momento di collettivizzazione, di organizzazione e di pratica radicale condivisa ed allargata. Ora, veramente aggiungo un ultimissimo spunto e poi vado veramente a concludere. Giustamente, insomma, la pandemia ha posto in essere e ha accelerato di conseguenza l'urgenza di una profonda discussione sulle risorse e sulla ridistribuzione del reddito, però appunto allo stesso modo la pandemia, la quarantena e il coronavirus hanno stimolato sicuramente una discussione, come diceva peraltro molto bene prima anche Miriam Tola, sul versante della giustizia climatica, una discussione che ovviamente impreccia numerosissimi piani e che naturalmente, come anche in questo caso, deve toccare più e più punti. Faccio quindi semplicemente quest'ultima segnalazione, cioè questo sabato, che viene sabato 2 maggio, appunto ci sarà, verrà trasmesso un webinar dalle pagine proprio del Venice Climate Camp che è diventato in effetti diciamo una piattaforma collettiva allargata in cui veramente tanti movimenti, tanti soggetti sono riusciti a parlare e praticare lo stesso identico linguaggio. Ecco, dai canali del Venice Climate Camp verrà trasmesso alle 15, dalle 15 in poi un webinar dal titolo Covid-19 e crisi climatica, la rivoluzione nella rete della vita, ecco. E appunto il primo slot di interventi riguarderà proprio i rapporti tra pandemia e flussi finanziari. Ecco, vi ringrazio e buona serata.